ciao a tutti gamers bentornati sul canale di giochi next gen ragazzi sono qui con questo nuovo video che come avete visto dal titolo è un video importante quindi diverso da quello che vi porto in genere io questo video non lo volevo fare ragazzi non lo volevo fare in realtà non è vero ragazzi questo video lo volevo fare solo che siccome va già da un po di tempo di moda dire io questo video non lo volevo fare e non ho mai avuto occasione di dirvelo ho pensato anch'io di dirvelo in questo video anche se in realtà questo video non lo volevo fare ma in realtà invece lo volevo fare nel frattempo prima di parlarvi di quello che vi devo dire come sfondo vedete ho messo clash royale sono arrivato in arena 2 e quindi qui vedete varie partite vari gameplay per il tempo in cui io parlerò così magari anziché annoiarvi sentendo vedendo soltanto me potete anche nel frattempo gustarvi il gameplay appunto di crash royale tra l'altro ragazzi per chi non lo sapesse con l'aggiornamento hanno messo il baule del clan che consiste nel totalizzare un tot numero di corone che porta insieme a tutto il clan e vi fanno avere poi dei premi nel quale a fine periodo dura una settimana potete poi quindi avere riscuotere i premi divisi per tutti i partecipanti quindi per tutto il clan detto questo ragazzi andiamo al motivo per il quale ho fatto questo video ora io il video che ho fatto fino al 24 dicembre erano già registrati avevo già fatti tempo prima perché ragazzi come potete vedere da dallo sfondo guardate mi sposto anche vedete ci sono una serie di cartoni messi lì io ora ovviamente non è che mi sto allenando a fare il barbone o non è che sto andando raccogliere i cartoni come lavoro ma semplicemente devo traslocare devo cambiare casa quindi quello che vi volevo dire che per un periodo che può andare dalle due settimane a un mese al massimo un mese non troverete più video su questo canale perché appunto io nel frattempo dovrò traslocare capite bene che dovrò mettere la linea nella nuova abitazione nel quale andrò i gestori in italia penso che chi di voi ha già fatto un cambio di linea comunque ha messo un nuovo gestore dicono una tempistica che ci può volere ma in realtà sapete bene che per la burocrazia italiana alle volte si ritarda quindi io ragazzi non so effettivamente quanto tempo ci vorrà mettere la linea ovviamente non sarà più di una o due settimane quindi ecco perché ho detto nell'arco nel periodo che va da due settimane a un mese non troverete più video sul mio canale ma il canale non è né inattivo e non è neanche chiuso rimane aperto normalmente solo che io già per registrare questo video ragazzi ci ho messo un po di tempo perché non riuscivo a trovare te cioè non riuscivo a trovare spazio perché comunque sto imballando tutta la casa inoltre vedete ho il casino dietro quindi non mi sembra neanche idoneo mettimi a fare video non ho molto tempo perché il tempo libero lo impiego per imballare tutto ciò che c'è da togliere per portarmi via quindi porterò un nuovo video nell'anno nuovo direttamente e nel quale vi farò vedere la mia nuova stanza quindi andremo direttamente nei nuovi video nell'anno nuovo vi volevo semplicemente avvisare e rassicurare per chi mi seguo che comunque il canale non è inattivo e non è neanche chiuso ma è soltanto fermo appunto per causa trasloco quindi al più presto riprenderò a fare video nell'anno nuovo ragazzi i progetti sono sempre quelli di fare i giochi tipo fifa e pesca e proseguiranno sono indeciso se portarvi solo il my club perché ho visto che comunque ha più visual rispetto al diventa un mito fifa sto pensando se continuano a portarvi la carriera o anche la modalità online quindi il fifa ultime team anche se penso che sia un po tardi perché mettiamo che inizio a giocare verso fine gennaio inizi di febbraio insomma è la mia idea ragazzi più che altro quella di portarvi magari anche un po più di giochi per il cellulare tipo clash royale e altri che magari scopri che posso giocare che sono molto divertenti e simpatici magari se avete qualche preferenza scrivetemelo sotto se volete che proseguo con fifa e pesca e clash royale scrivetemelo o se volete che mi porto più giochi per android comunque per smartphone in genere scrivetemelo sempre sotto così magari mi posso regolare ragazzi con questo ho concluso vi auguro ovviamente un buon natale un buon capodanno purtroppo quest'anno non ci saranno video natalizi o di fine inizio anno appunto perché non ho la possibilità di registrare l'ultimo video va in onda cioè l'ho programmato fino al 24 di dicembre che è di clash royale dopo quel video c'è questo qui e dopo questo qui ragazzi ci rivedremo direttamente nell'anno nuovo nella mia nuova abitazione quindi vi faccio tantissimi auguri di buon natale tantissimi auguri di felice fine e inizio anno nuovo sperando che sia un anno gamer bellissimo con tanti gioconi in uscita per divertirci qui d'angelo nero 83 è tutto ci rivediamo penso tra più o meno al massimo un mesetto ciao gamers